buongiorno oggi la mia mogliettina ha fatto uno spezzatino con patate guarda che bello eh aglio e cipolla un po di gusti far soffriggere la carne quando la carne quando la carne è pronta è quasi cotta abbiamo messo le patate un po un po di brodo e adesso è quasi pronta quindi spezzatino di carne di maiale con patate abbiamo messo un cucchiaino di concentrato solo per dare un po di colore quindi diciamo che è perfetto buon appetito a tutti dalla romania e statevi bene